Sono Walter Corda di Sony Technical Specialist, Sony quest'anno al Mir presenta l'integrazione della nostra parte live, la nostra parte di cattura dei contenuti live e la fruizione attraverso vari canali distributivi. Abbiamo piazzato nell'area concerti un sistema di acquisizione basato su camere da studio che registra sui nostri server a stato solito in 4K, questa configurazione ci permette di registrare localmente in 4K HDR e di trasmettere in diretta le immagini che vengono riprese dell'evento. Abbiamo proposto anche una soluzione che abbiamo mostrato allo stand nella quale registravamo le immagini su disco a stato e le riproducevamo poi su schermi ad alta dinamica, quindi schermi HDR, Sony 4K, per far vedere al nostro pubblico la qualità e la potenza delle immagini catturate con i nostri dispositivi. Contessualmente abbiamo presentato anche altre soluzioni, abbiamo portato dei camcorder di fascia più bassa, dimostrando che oggi tutte le macchine Sony anche di fascia intermedia hanno come prerogativa quella di poter condividere immediatamente sui social quelli che sono i contenuti che vengono registrati, quindi l'assoluta facilità con la quale si può registrare un evento e contemporaneamente trasmetterlo e generare un evento Facebook o simili. Un altro elemento, il commitment di Sony, sempre sulla parte di archiviazione, anche questa volta ha avuto un piccolo spazio la parte IMS, quindi la possibilità della fruizione. Quindi la Sony ha proposto Xikameir e Virtual Production, che sono due prodotti software, quindi solution di Sony, attraverso i quali si può fruire dei contenuti e distribuirli attraverso i canali web.